dai che ti sto filmando di te mi ruzzi no che vaffanculo vai dagli ma li dai dove qua gli dai un cazzo perché è tutto storto ma vaffanculo su da erbri si apri un cazzo te l'ho detto che andavi giù di telaio così la marcia che dopo va basta riuscirla la pressione ce l'hai a casa tu o no non è come la tua questa non si spegne cazzo la tua se la alzi fa questa va cazzo ti porta giù nel torrente vai giù fino in fondo alla scaletta hai fatto il bel guadagno te cos'è? lì eh di che cosa? guarda qui ma va non gli fa niente adesso riproviamo non ho capito come hai fatto? guarda di che bel guadagno la forcella ma va e meno male che c'è copriforcella lui copriforcella e rauro ma va qui non ci arriva la tua forcella appunto no che le cose non ci arriva la mano ritenta seconda sì ma se hai deciso dai lì e basta ormai l'hai aciugato sì cazzo vai aciugato ma che fra un po' vedendo il nostro dai su 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 eh tu devi dargli e basta devi dargli prima poi non devi toccarlo insomma noi abbiamo visto come fanno ma si vede bene ah in discesa no in discesa dai in discesa lo lasci andare dai in discesa appena appoggi qua davanti e fai per lasciarla andare faccio e vai giù con la faccia così io non passo in discesa in discesa torniamo di là prova prova poi vedi appena appoggi il davanti fa il davanti è là e tu sei là con la faccia fa la saponetta e dove l'ho liciato io prima ecco ho sgarlato vedi ho sgarlato adesso me l'hai preparato a fare in salita va che è meglio ma lui lo fa ma lui lo fa bene vedrà va su qua le gambe fanno così gambe ad ali di gabbiano ti ricordi la bertone di una volta degli anni settanta lui c'ha le gambe ad ali di gabbiano al posto di averla macchina e forse l'errancamei e ma te lo spara via e sono qui con martello a scortella fai la riga si gli fai la riga